Stiamo ricevendo in questi giorni molte sollecitazioni positive invece in una tragedia, in un momento molto difficile che è quella della disponibilità di tanti giovani e meno giovani che vogliono mettersi a disposizione per aiutare le famiglie in difficoltà a liberare le cantine, gli appartamenti allagati. Quindi troveranno e troverete sul sito del Comune un link dove dare la disponibilità per aiutare le famiglie in difficoltà, aiutarle per liberare cantine, per pulire i vani occupati dall'acqua e aiutare le persone più fragili che è la cosa più importante. Chiameremo all'aiuto i maggiorenni in particolare ma la sollecitazione più grossa è stata dal Forum Giovani. L'emergenza ha dentro di sé anche il lato umano delle persone, oltre la tragedia che vediamo non solo qui nel nostro territorio, in Emilia Romagna specialmente, i giovani diventano protagonisti di un vero atto di solidarietà. Sono stati i primi a contattarci per chiedere come potessero essere d'aiuto, di supporto verso le persone più anziane, per esempio che hanno le proprie cantine, i propri garage occupati dal fango o ancora dall'acqua. Questo ci fa onore, ci ricorda che le nuove generazioni sono sempre pronte a mettersi a disposizione degli altri, basta riuscire a contattarle, cosa che insieme al Presidente del Consiglio Comunale e anche sulla spinta del Forum Giovani siamo riusciti a concretizzare. Spero che a questa catena umana, e che l'emergenza non serva ancora a prolungarla, però che questa catena umana possa essere un esempio virtuoso anche per coinvolgere altri cittadini.